Gentili telespettatori, buona giornata. Ma non si era detto che il nuovo governo voleva cancellare tutti i bonus perché basta l'Italia dei bonus, ci facciamo ridere dietro da tutta Europa perché noi siamo lo Stato che dà i bonus, bonus per tutti, il famoso bonus monopattino. La Meloni ha detto che quando arriverò io al governo, se mi votate, con i bonus abbiamo chiuso perché vuol dire buttare i soldi a pioggia, i soldi vanno concentrati tutti in qualcosa di concreto, non buttarli così bonus di qui e bonus di là, ovviamente per fare piacere a quella lobby, a quel settore, agli amici di quel tipo e agli amici di quell'altro tipo. Però sembrerebbe che non sia cambiato assolutamente nulla. Sento parlare del bonus tende da sole, incredibile, il bonus tende da sole, con tanto di requisiti per ottenerlo. Quindi ci sono proprio delle guide per il cambio della stoffa, per beneficiare della detrazione, quindi il bonus tende da sole. Fantastico! Dire di cambiare tutto per non cambiare assolutamente nulla. Cambia una persona ma tutto rimane sempre uguale. Favoriamo questi, questi qui, gli amici di questi, gli amici degli amici, le lobby, eccetera, eccetera. Il bonus tende da sole. Gioite amici e amiche, come direbbe la Schlein, il bonus tende da sole. Wow! Un paese fallito che continua con i bonus. Estate, bonus tende da sole, il minimo, eh? E quindi, direbbe un mio amico. E lo dice. Arrivederci a tutti e grazie.